bella vecchia macchine grazie siamo tornati con un ahahahah che cazzo ti dico e siamo tornati con un e siamo tornati con un nuovo pack opening incredibile fantastico c'erano rimasti 500mila dell'altra volta quindi ora andiamo subito a spacchettare incredibile magico unico guardate subito come trova un toz trova un toz c'è c'è proprio all'inizio in apertura guardate quaresma le sue trivele era meglio jackson martinez dove vediamo intanto lui si alza per telefono io ne spacchetto un altro frega cazzi dell'intro ragazzi frega cazzi frega cazzi non c'è più una vorale c'è qui c'è eccolo 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 oddio 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 ma che cazzo ma che è sta storia erkin finalmente un turco che ci ha fatto bene incredibile il pokemon cazzo vai mettiti sul mercato 360mila del babà al secondo pacchetto non c'è più non c'è più non c'è più non c'è più c'è ora c'è quindice vai vai navas che questo è keylor però eccolo keylor navas grande scalambretti l'ho aperto l'ho aperto io uno si che dire di che dire musacchio vogliamo un altro toz anzi altri due ma si non ci accolteniamo ma io direi anche con ronaldo record breaker ci fermiamo qua ronaldo record marco lazar marcovich diventerà un fenomeno ma adesso non ci fa un cazzo sta cazzo frega cazzi frega cazzi dell'intro oh guardalo è nice ma io voglio trovare un toz italiano c'è vai attenzione vai c'è tutto e due fratelli ya ya dure colo dure che cazzo nome da merda mo dure e toz vai dei fo ancora giocano questi non ho idea di cosa sto facendo manco lui con i capelli sua però mamma mia che cazzo stai facendo attenzione vai attenzione c'è vai vai per una pizzola eh questa ce la portiamo a casa ce la portiamo a ma che cazzo girù sono fatto tutto l'arsenal e comunque ovviamente tutto l'arsenal vai un girù dai un bacio a chi vuoi tu dai un kissling a chi vuoi tu no per me sei drogato cioè nell'intervallo attenzione c'è 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 stato un putt 15 c'è 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 tante c'è tante tante come la sua ma cabana e lui vai così vai così vai così a c'è e vchen diamo vediamo mancano pochi crediti pochi crediti oddio cazzo cazzo buo cazzo boi vai ma che cazzo sta qui ma che davvero o vabbè muore mentre muore mentre muore mentre muore vai 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 addio grazie neanche soltino più colotto sarman attenzione eccolo tu la ma rega tu l'anna c'ha 40 la cassetta certo tozza era meglio però a me la cassetta tozza quanto valga tanto ps ne va tanto io sto scartando pacchetti a maletta o o babel ryan che sono tristi e che si è rovinato attenzione vai cinquantamila la bocca e l'amore vai così c'è casillas bastoba 60 mila in the house mancano solo 4 macchetti forse 5 forse 5 forse 5 forse 5 vediamo c'è o non c'è c'è di non c'è ultimo pacchetto ma è possibile ultimo pacchetto c'è in house eccolo qui c'è 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 l'ultimo tozzo lo troviamo ragazzi 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 ragazzo un po raccoglio ragazzi cioè questa volta abbiamo trovato anche più dell'altra volta perché anche c'era jackson martinez e poi abbiamo trovato 4 4 e kline vale quasi più di jackson martinez se vi piaceva questo video credo ci dobbiamo arrivare 10.000 like non ci possiamo non arrivare 4 tozze tutti insieme dai e ne facciamo un altro di back opening con i tozze perché tanto siamo fortunati è il nostro momento troviamo tutti quanti dai e bella bella ciao